Aeroporti di Puglia è davvero un cancro per Taranto, per l'area ionica, in particolar modo per l'Arlotta di Grottaglie Taranto, l'aeroporto Arlotta. Infatti, giorno 3 gennaio, una grande nevicata ha reso inutilizzabili gli scali di Bari e di Brindisi. E cosa hanno inventato questi farabutti? Perché così vanno definiti. Hanno deciso di trasferire, appunto, di spostare i voli e quindi le partenze e gli arrivi da Bari e o da Brindisi udite udite alla Mezzia Terme, nella profonda Calabria. Cioè, noi abbiamo a due passi, da Bari o da Brindisi, l'Arlotta di Grottaglie, cosa decidono? Di far sbattere i passeggeri alla Mezzia Terme. Per arrivare alla Mezzia Terme ci vogliono 5 ore di sbattimenti, strade tortuose, quando invece, ripeto, si sarebbe arrivati a Grottaglie comodamente. Risparmiando questo calvario, questa fatica enorme per i passeggeri. Ma il motivo è presto detto. Aeroporti di Puglia vuole cancellare proprio l'esistenza dell'Arlotta, perché se no si sarebbe creato un pericolosissimo precedente. E allora hanno detto che l'Arlotta non deve esistere, perché se questa volta lo facciamo funzionare, poi si creerebbe un precedente. Poi si potrebbe dire, avete visto? Allora l'Arlotta è utilizzabile. La cosa ancora più grave è che proprio quel giorno all'Arlotta di Grottaglie è atterrato un Boeing americano. Nonostante le condizioni per l'Arlotta erano accettabili, le condizioni meteo, visto che tranquillamente un Boeing americano è arrivato. Ma ditemi voi, ma stiamo scherzando? È possibile che noi dobbiamo tenere questo aeroporto così che l'Arlotta che viene utilizzato per le ipotesi più fantasiose, si parla dei voli suborbitali nello spazio, c'è la destinazione cargo e i voli passeggeri mai, neanche quando gli scali di Bari e di Brindisi sono chiusi. Ci rendiamo conto? La classe politica ionica a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello parlamentare, dovrebbe saltare addosso, dovrebbe sbranare vivi questi farabutti di aeroporti di Puglia, perché tali sono, sono dei farabutti, perché chi effettivamente assume un comportamento del genere è un farabutto. Significa davvero calpestare la dignità di Taranto, la dignità di un aeroporto funzionante, funzionante. E l'assurdo, sapete qual è? Che giorno 4, mi pare, le ali degli aerei che erano presenti a Brindisi, visto che non esistevano altri strumenti per sbrinarli, non vi era praticamente un sistema di sbrinamento elettronico, insomma, diverso, sono stati sbrinati manualmente con i secchi d'acqua, cioè le ali degli aerei, visto che non c'erano altri sistemi, con olio di gomito si buttava l'acqua e si stricava, tra virgolette, passatemi questa espressione di aletta, si cercava di far sbrinare, di far cadere evidentemente il ghiaccio, la neve e quant'altro, dalle ali degli aerei. Questo è Brindisi. Ditemi voi, questo è un aeroporto? Questo è un cesso di aeroporto, visto che, scusatemi, bisogna sbrinare con le mani, togliere il ghiaccio dalle ali degli aerei. Però a Taranto, all'Arlotta, mai un volo, né in arrivo né in partenza. Aspetto altrettanto grave è che gli oneri di decollo e di atterraggio sono andati a finire nelle casse dell'aeroporto di La Mezzia Terme, quando invece potevano rimanere in Puglia. Cioè, aeroporti di Puglia ha preferito far finire questi soldi in Calabria anziché in Puglia, perché se fosse stato usato l'Arlotta rimanevano in famiglia, rimanevano nella regione Puglia. Invece questi oneri vanno ad arricchire i calabresi. Ma vi rendete conto che cosa è aeroporti di Puglia per Taranto? Un cancro, una sventura. Questa è la realtà, signori cari. Allora abbiamo a Brindisi che si sbrina le ali con le mani. L'Arlotta è funzionante, arrivano gli americani, ma per i voli relativi a Bari e Brindisi l'Arlotta non esiste? Ma forse è proprio il caso che veramente ce ne andiamo, che Taranto se ne vada dalla regione Puglia. Forse è meglio in Basilicata, perché se la regione Puglia ci deve trattare in questo muto, se aeroporti di Puglia ci deve sputare in faccia, forse è meglio andare nel Burundi. Ma ci rendiamo conto? Abbiamo iniziato proprio bene quest'anno. Che schifo! Aeroporti di Puglia, il cancro di Taranto. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre!